Gentili telespettatori, buona giornata. Roberto Fico in un'infuocata assemblea per le elezioni di maggio e viene contestato. Si parla della decisione o no di correre da soli o con il PD alle prossime elezioni regionali in Campania. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe far passare l'idea che loro alle regionali vanno da soli perché loro sono una terza via, loro non solo sono imparziali, non sono né con destra né con sinistra, facendo passare poi l'idea che al governo sono insieme al PD ma per caso, come per far capire erano gli unici che potevano aiutarci per andare avanti, quindi l'abbiamo tirati su, però noi siamo insieme al governo ma quasi con disprezzo. Questo vorrebbero farla bere agli elettori e gli elettori non l'hanno bevuta e sono andati via a tutti, addirittura sono passati col PD, con Bonaccini, in Umbria 7,4%, in Calabria 6%, dal 43,4% al 6%, oppure in Emilia Romagna addirittura al 4%, quindi gli elettori non hanno creduto alla storiella, noi siamo col PD per caso, come turisti per caso, però c'è chi vuole schierarsi col PD in tutte le regionali, quindi l'ala di Fico che vuole fare un'alleanza strutturale col PD perché anche loro sono del PD, sono di sinistra, uomini di sinistra e chi vuole presentarsi da soli e c'è anche una parte che vorrebbe presentarsi con il centrodestra, non dimentichiamolo. Ma mentre nel governo centrale si gioca l'inciuccio, siamo col PD, antisalvini eccetera eccetera, chiamiamo nelle periferie ma nei territori, nelle province, nelle regioni, nelle città, nei comuni, i militanti, i politici locali non ne vogliono proprio sapere di un PD che combattono ogni giorno sul territorio. Ma Luigi Gallo sostiene, motivandolo, la necessità di fare delle alleanze con chi che sia, con chiunque, con chiunque per perseguire gli obiettivi del Movimento 5 Stelle e dice proprio questo, se le avessimo negate nel 2018, i 2,5 milioni di poveri del nostro paese avrebbero potuto mettere il piatto a tavola, qualcuno immaginava che la Lega avesse potuto mai votare il reddito di cittadinanza e la legge anticorruzione, qualcuno poteva immaginare che il PD accettasse di rendere operativa la legge sulla prescrizione e il taglio dei parlamentari, dei vitalizi, lo abbiamo sempre fatto con i voti di altre forze politiche. Avete capito? A noi serve allearci perché poi facciamo fare agli altri quello che vogliamo noi. Beh, sicuramente le frasi di questo signore, di Luigi Gallo, fanno riflettere. E quindi la tesi di Roberto Fico, della sua corrente, è quella no all'autosufficienza, perché alla fine l'autosufficienza porta a scomparire. Ma Fico ormai spiega che il movimento ormai fa parte del sistema e dice siamo parte delle istituzioni, sono la terza carica dello Stato, abbiamo partecipato alla nomina dell'amministratore delegato della RAI, quindi se facciamo parte del sistema non ha senso e il ragionamento starsene arroccati nell'isolamento. Ma quello dell'isolamento era proprio uno dei punti cardine del primo movimento che vedeva nell'isolamento il non farsi contagiare dalla casta. Ma loro sono usciti dall'isolamento, si sono fatti contagiare dalla casta e che contagio sono diventati i re della casta. Ma attenzione, per fare le alleanze come c'è scritto nel loro statuto che dove non si possono fare, sarebbero alleare solo con una lista civica, non con un altro partito, bisogna chiedere alla piattaforma Rousseau che voi... però chi decide sulla piattaforma Rousseau? Attenzione, quelli che decidono sulla piattaforma Rousseau sono Vito Crimi, il capo politico, ma i votanti chi sono? Sono dei 5 stelle? Forse. Sapete che nella piattaforma Rousseau si può iscrivere chiunque, non c'è un costo, non c'è niente, è come iscriversi su Facebook, su Instagram, mettete nome e cognome, dato di nascita, vi iscrivete, dopo due o tre giorni vi approvano e dopo sei mesi potete cominciare a votare. Quindi voi che seguite questo video vi potete iscrivere alla piattaforma Rousseau e dopo sei mesi potete votare come se foste dei militanti del Movimento 5 Stelle. Quindi realmente adesso fare decidere a una piattaforma dove si iscrive chiunque vuol dire chiedere in mezzo alla strada, secondo voi, ai primi che incontrate in strada, cosa dobbiamo fare alle elezioni? Quindi questa democrazia alternativa fatta di internet e di voti sulla piattaforma, alla fine, secondo me, è molto dubbia perché in questa piattaforma Rousseau ci può essere chiunque. Allora tanto vale, tanto vale, fate una votazione su Facebook, fate nella pagina del Movimento, mettete un bel sondaggio come quelli che metto io qua sul canale, mettete un bel sondaggio, volete sì, no, e fate un sicuramente avreste più voti con un sondaggio in Facebook di una votazione su questa piattaforma. Intanto Vito Crimi, per seguire un po' le orme politiche di Di Maio, anche lui è contrario alle alleanze. In più dovrà tenere conto della relazione dei facilitatori locali, tra i quali c'è Luigi Jovino, che spiega, io credo che si debba rispettare la volontà della base, che in grande maggioranza era contraria. Noi interpreteremo quella volontà e riferiremo. A questo punto un voto su Rousseau, lo vedo difficile. Ma Fico dice, come dicono in tanti, ma così siamo condannati all'irrilevanza, a scomparire. Senza alleanze scompariamo. Ma attenzione, non è che scompaiono solo senza alleanze. L'alleanza è una parte del puzzle, ma poi scompaiono perché la loro politica ha contraddetto e ha mandato a quel paese tutti i militanti. Come diceva Sgarbi, Grillo ha mandato a tutti i suoi votanti perché ha contraddetto tutto. Dalla prima all'ultima cosa ha detto l'opposto per fare questa alleanza col PD, proprio per la paura di scomparire, perché Grillo aveva paura che il suo movimento scomparisse. Con quella paura ha detto dovete fare l'alleanza col PD, così riusciamo a fare ancora qualcosa, perché dopo siamo finiti. Ma questo non ha fatto altro che accelerare quella disintegrazione del movimento. Quindi caro Roberto Fico, non è solo un motivo l'isolarsi e non fare alleanze che fa scomparire il movimento. No, perché il movimento è arrivato al 33,5% essendo isolato. Sì, poi ha dovuto fare l'alleanza con qualcuno, sennò in Italia non si governa senza fare le alleanze con questa legge elettorale. Però è da valutare. Ma l'idea di Fico in Campania è di lanciare un pacchetto di proposte al PD, togliendo di mezzo Vincenzo De Luca, egli impresentabili, che non è un film ma è una definizione di alcuni politici. A quel punto, se il PD trova un accordo con De Luca, promettendo nomine e altre soluzioni, si chiederebbe un voto su Rousseau, con più forza e più possibilità di passare. Anche se la di Maiana Valeria Ciarambino, che si vuole candidare da sola contro la politica clientelare delle fritture di pesce, ci fa sapere che il voto deve riguardare solo i campani. Il precedente su Rousseau fu sull'Umbria. Votarono tutti, non solo gli Umbri, e dissero sì all'alleanza. La Ciarambino non vuole finire in un partitino irrilevante della sfera sinistrorsa. L'ex candidato, sindaco e consigliere Matteo Brambilla e Duro sono arrabbiato. Se andiamo con il PD, non avrete mai il mio voto. Il rischio è quello di correre da soli e rischiare di perdere le elezioni regionali, compromettendo il percorso nazionale con il PD, con conseguenze facilmente immaginabili sulle prospettive del movimento e del governo. Quindi diciamo che la regione rossa era Emilia-Romagna, la regione grillina sarebbe la Campania. no? Quindi i grillini fanno intendere se perdiamo quella regione ci potrebbero essere conseguenze sul governo e sul movimento, cosa che probabilmente non succederà perché il collante è quello dell'anti Salvini, è quello del stare al potere il più tempo possibile in modo che ogni giorno in più è un giorno in più di stipendio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e condividere. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie.